Li ho chiusi in una stanza e li ho menati. La rivelazione shock di Albano Carrisi che sconvolge i fan Albano Carrisi, la voce inconfondibile che ha incantato l'Italia e non solo, ha recentemente sorpreso tutti con una confessione al Corriere della Sera. La star di Felicità non solo ha incantato Sanremo 2023 insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, ma ha anche condiviso un pezzo del suo passato meno conosciuto, segnato da momenti di rabbia e tensione. Prima di diventare la leggenda che conosciamo, Albano ha vissuto momenti difficili. Dalla sua cellino San Marco, ha iniziato come imbianchino a Milano, accettando un modesto stile di vita. Dormivo in cantiere, in una stanza al pian terreno, alla luce di quattro candele. Ma non mi pagavano. Ero rimasto con mille lire, ha confessato. La tua opinione conta. Immaginavi Albano in queste situazioni così dure? La sua storia ti tocca in qualche modo? Raccontaci nei commenti come ti senti riguardo a questo lato meno noto della vita di un grande artista. Dopo l'esperienza come imbianchino, Albano si è cimentato nella ristorazione, lavorando al ristorante Ferrari vicino al Duomo di Milano. Qui, imparò a fare pizze e caffè, ma si trovò a fronteggiare molestie e provocazioni da parte dei colleghi. Un giorno mi indicarono mentre salivo le scale trafelato, pieno di pacchi. Ha ricordato, descrivendo poi la goccia che fece traboccare il vaso. Non ci ho visto più. Li ho chiusi in una stanza, e li ho menati. E ho cambiato ristorante. Una reazione che mostra un lato inedito e più oscuro della sua personalità. Il suo cammino non si fermò al ristorante Dollaro, dove affrontò ulteriori ostacolazioni, questa volta legate a tensioni sentimentali. Albano ricorda. Lo sentii sibilare. Questi terroni ci portano via le donne. Così, me ne andai in fabbrica. Lavoravo, e per resistere cantavo tutto il giorno. Mi dicevano, terrone, piantala. E io, goditela, finché è gratis, perché tra poco per ascoltare la mia musica dovrai pagare. Condividi il tuo pensiero. Questa storia di Albano ti sorprende? Ti aspettavi che dietro a una carriera così luminosa ci fossero sfide così difficili? Unisciti alla conversazione e raccontaci la tua opinione. La vita di Albano Carrisi è un intreccio di passione, talento, lotte e resilienza. Dal giovane emigrante al cantante amato da milioni, la sua storia è un inno al coraggio e alla perseveranza.